C'è un film su Netflix che sta attirando moltissimo l'attenzione del pubblico in quanto è tra i primi tre più visti della piattaforma streaming. Sto parlando di Il Mondo Dietro di Te, Leave the World Behind. Quindi in inglese è un po' cambiato il titolo, come sappiamo, lo storpiare i titoli dall'inglese all'italiano è una nostra tipica caratteristica. Ma cosa significa il finale del film? Andiamo a scoprirlo insieme. Per prima cosa il film è tratto da un romanzo che non tutti conoscono, appunto, Leave the World Behind, prodotto per Netflix dalla famiglia Obama. E già questo è sintomatico della caratteristica che comprende questo film, perché ha molte cose particolari che scopriremo man mano in questo video, cercheremo almeno di darvi delle delucidazioni che potrebbero interessarvi. Il film racconta di una famiglia che vuole trascorrere le vacanze lontano dal caos cittadino e per questo affitta una casa lontano dal centro per trascorrere un weekend in relax. La famiglia è formata da un cast eccezionale. Julia Roberts e Ita Nock sono i genitori. Poi c'è la figlia che è particolarmente attratta dalle serie TV e soprattutto con Friends, questo ci ritorneremo dopo, e c'è il figlio un po' più grande adolescente. Durante il loro soggiorno si accorgono che non funziona internet e la bambina vuole assolutamente vedere l'ultimo episodio di Friends, perché lo vuole a tutti i costi, perché la rilassa e perché è l'unica cosa che la tiene attaccata alla felicità in senso stretto. Quindi durante il film riusciamo a capire che cos'è che non va con internet e mentre loro sono in questo soggiorno, in questo appartamento, arriva l'altra famiglia proprietaria della casa formata dal padre, che è Marshall Ali e la figlia. Durante il loro pernottamento appunto si presenta Marshall Ali e la figlia, i proprietari della casa, e capiamo che c'è stato un gigantesco blackout in tutti gli Stati Uniti e che potrebbe risolversi a breve, perché vediamo appunto il messaggio di emergenza del governo statunitense che avverte la popolazione di rimanere tranquilli. Un film che può considerarsi una denuncia all'attuale momento storico dove siamo schiavi della tecnologia e dell'internet che ci controlla e questo è un modo per sottolineare come i cyberattacchi possono essere tranquillamente più frequenti proprio perché l'avanzare e lo sviluppo di internet nella nostra vita è enorme. Sottolineato anche dai due figli che senza internet in casa si annoiano e non sanno cosa fare. Appunto come detto la figlia che in tutti i modi cerca di trovare una connessione per vedere l'ultimo episodio di Friends. Oltre a questo c'è una piccola chicca che ha fatto arrabbiare non poco Elon Musk. Infatti il multimilionario si è arrabbiato tantissimo perché c'è una scena che potete anche vedere nel trailer nel quale vediamo tante Tesla di cui lui è proprietario che sono ferme sull'autostrada. Soltanto che il buon Elon Musk non ha capito l'intenzione del film in quanto nella successiva scena vediamo queste Tesla hackerate che poi si schiantano sulla fila di altre Tesla bloccate perché a loro volta si erano schiantate. Elon Musk ha sottolineato come le Tesla possono anche andare ad energia solare e quindi è impossibile che sono bloccate in autostrada. Beh Elon non era quella l'intenzione e non era quello il motivo per cui le auto erano ferme bensì erano incidentate e impossibilitate ad andare avanti. Questo è un esempio tipico di come la tecnologia potrebbe inquinare la nostra vita perché senza la quale appunto siamo schiavi di internet e di tutti i comfort che il momento storico attuale ci dà. Ci sono diversi significati del film che si possono leggere tra le righe nelle varie scene. Io farò degli spoiler in questo momento ma se non l'avete visto non continuate la versione del video ma se volete saperne di più e volete sapere come la penso sono qui per spiegarvi come la penso io come ho visto queste determinate scene. Allora c'è il momento in cui la bambina si trova poi da sola a casa che si ingozza con tutto quello che trova e poi finalmente riesce a vedere questo episodio di Friends. Qui possiamo leggere due significati ovvero che la felicità si trova anche nelle piccole cose quindi in quello che poi Friends ha rappresentato per la bambina che si trova felice soltanto quando guarda Friends in un mondo che in quel momento è al collasso. Friends quindi amici riesce a strapparle quel sorriso di cui ha molto bisogno. L'altra lettura di quel momento del film è un po' più intrinseca in quanto quella bambina potrebbe rappresentare gli Stati Uniti giovani in confronto al resto del mondo che fanno uso smotato di tecnologia e cibo. Altra lettura che possiamo individuare è quella dei protagonisti che si appropriano della casa dei veri proprietari che sono di origine afroamericana e che poi in seguito vanno a dormire nel loro scantinato. Questo va a significare innanzitutto come gli Stati Uniti si siano appropriati di un territorio dei nativi americani e che hanno poi scacciato. quindi la famiglia rappresenta gli Stati Uniti che hanno occupato il territorio dei nativi americani e la famiglia afroamericana che dorme nello scantinato nonostante la casa fosse la loro è un rimando direttamente al periodo della schiavitù. Quindi, insomma, sono letture un po' più intricate ma che ci possono stare. Una curiosità nel film, come detto anche dal regista è l'uso dei cervi. Molti hanno scritto e detto che non vedranno mai più i cervi in quel modo in quanto un animale così pacifico e tenero ad un certo punto sembra proprio minaccioso perché si radunano tutti in branco e cerchiano la casa nella quale Julia Roberts e la figlia di Marciali erano chiuse per cercare appunto la piccola bambina Rose. In quel momento i cervi sembravano volessero attaccare le due donne ma quando queste si sono messe a tutelare sono fuggiti. Questo sta a significare come in quel preciso momento anche le creature più pacifiche in situazioni di grave pericolo come in quello che si trovano i protagonisti ovvero nella guerra civile imminente possono diventare le più pericolose. Infine arriviamo al tanto contestato finale del film perché in molti hanno letto questo finale come una nota negativa un senso di tristezza e di solitudine da parte della bambina che decide piuttosto di andare a cercare i genitori di andare a guardare l'ultimo episodio dei fans che era l'unica cosa che gli interessava come per dire mi sposto un po' più in là anche se il mondo sta andando in rovina. Il regista invece ha voluto sottolineare che con questo finale lui avesse voluto dare una nota positiva alla fine del film in quanto quando Rose scende giù per il coritoio a trovare il bunker c'è un poster con una frase con scritto la speranza inizia nell'oscurità. Come ha spiegato il regista nella storia umana abbiamo attraversato momenti molto cupi quindi voleva chiudere il film con una nota positiva che aprisse un raggio di speranza in questo buio che stava calando lentamente in quanto scopriamo che è stato appunto un modo, un attacco per iniziare una guerra civile che ci viene spiegato durante il film appunto che quello che accade in queste tre fasi viene fatto perché sono quelle tre fasi per ribaltare il governo e fare un colpo di Stato. In quel momento è in atto la terza fase di quel piano per ribaltare appunto il governo degli Stati Uniti che culmina con la guerra civile e in quel momento capiamo che negli Stati Uniti sta calando l'oscurità e quel finale così emblematico con Rose che guarda l'ultima puntata di Friends con un sorriso di felicità è un raggio di speranza per gli spettatori come ha sottolineato il regista e per il mondo intero rimane quindi una porta aperta sul finale chissà se la famiglia e gli amici di Rose hanno raggiunto la bambina nel bunker in attesa di capire quello che succederà dato il successo del film ci sarà un sequel non credo perché la bellezza di Leave the World Behind è proprio questa il finale che rimane aperto a diverse interpretazioni ragazzi io ho provato a spiegare il finale del mondo dietro di te fatemi sapere cosa ne pensate del video e se avete altre chiavi di lettura sono felice di dibatterne con voi con un commento qui sotto in descrizione dove trovate il link alla nostra pagina Facebook YouTube e Instagram grazie a tutti per avermi seguito fin qui da Padreio Perrone e da Ciaccazione ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti